Dal concorso enologico del 2011 è arrivata una piacevole conferma per l'azienda agricola Roeno della famiglia Fugatti da Brentino Belluno in Val d'Adige, una valle nota per l'enanzio vitigno autoctono. La signora Cristina, che dà anche il nome a un vendemmia tardiva, festeggia questa la sesta, settima volta che riceve la gran menzione con un vendemmia tardiva, appunto il Cristina 2008. Che vino è questo? Come lei ha detto appunto è una vendemmia tardiva di quattro tipi di uve bianche che invece di essere raccolte nel periodo di settembre vengono raccolte alla fine di ottobre, nasce questo vino ritenuto da molti uno dei migliori vini diciamo dolci e quest'anno siamo molto contenti perché ovviamente abbiamo presentato questo unico vino al concorso enologico e anche quest'anno tra virgolette ci siamo portati a casa la gran menzione. E' però il prodotto di punta di una gamma che abbraccia diversi vini sempre all'insegno della qualità. Certo, il Cristina ormai è il vino che più rappresenta qualitativamente l'azienda Roeno, ovviamente vicino anche ai grandi rossi importanti come l'enanzio. L'enanzio è il vitigno autoctono che rappresenta proprio la nostra terra, la terra dei forti, vicino anche al Roeno che è l'altro uvagio creato ancora da nostro padre e poi adesso l'ultimo nato che appunto abbiamo presentato quest'anno che è un Risni in Renano. Grazie 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 Grazie